Ciao a tutti, oggi prepareremo il detersivo per i piatti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, aceto bianco, sale grosso, limoni con la buccia tagliati a pezzetti, scaglie di sapone di marsiglia. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale i limoni e il sale grosso ed azioniamo il bimbi per un minuto da velocità 6 a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso l'acqua, l'aceto di vino bianco e il sapone di marsiglia in scaglie. E facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, velocità 2. Azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 10. Il detersivo è pronto, lasciamolo raffreddare e trasferire in un contenitore. Detersivo per i piatti Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!